E' finito 3-1 per il Pescara, il primo test probante stagionale per i biancazzurri di Zeman e il Teramo al Dei Marzi di Avezzano, il cui manto regge alle piogge delle ore antecedenti il match. Un test che chiude la prima parte del ritiro estivo del Delfino, con i giocatori che ora si godranno tre giorni di assoluto riposo prima di riprendere la preparazione sabato prossimo a Palena. La rosa extra large non è facile da gestire e Zeman lascia fuori svariati elementi, tra cui Gans e Latte Latte e gli acciaccati Zampano, Bovo e Fornasier. Bene il baby Delicari al fianco di Perrotta, Capone e Del Sole in appoggio di Pettinari, il quale dopo appena due minuti sblocca il risultato, incornando da corta distanza il cross di Mazzotta. Il Teramo del primo tempo è nella versione titolare, con un 4-3-2-1 corto e compatto, nel quale i brevi linei De Grazia e Frattangelo si fanno apprezzare. Alla mezz'ora Tulli in corna alto, al 38esimo Del Sole impegna severamente Calore, che poi dice no anche a Pettinari. Al 40esimo il Teramo impatta con il pregevole tocco sotto di Frattangelo, il quale batte Fiorillo in uscita dopo aver eluso la trappola del fuorigioco. La girandola dei cambi della ripresa agevole il Pescara, che ha buone risposte in particolare da Benali e Koulibaly. Il Teramo pieno di giovani perde un po' di consistenza e il Pescara ne approfitta per l'1-2 che definisce il risultato. Al settimo coda di testa sfrutta il cross di Crescenzi e batte Lewandowski. Passano dieci minuti e Mazzotta sforna il secondo assist di giornata per il sinistro forte e preciso di Benali, impiegato a sinistra nel tridente con Nicastro e Mancuso. Pigliacelli si mette in evidenza sulla conclusione di Paolucci, poi il Pescara manca qualche altra opportunità per arrotondare il risultato. Complessivamente promosso il Teramo del primo tempo, in attesa di ulteriori innesti per completare l'organico. Venerdì arrivi Sondoli il prossimo test con la Fidelisandria. Zeman invece continua a lanciare segnali sulla rosa troppo ampia. A Palena vorrei fossimo in 28, dice il boemo nel topocara. E se il mercato in uscita non dovesse portare novità, non sono da escludere defezioni eccellenti dalla lista dei convocati per la seconda parte del ritiro nel centro del Sangroaventino.